... Incidente mortale sulla bratella di Castellammare del Golfo, fuori pericolo, i due feriti, i medici sciolgono la prognosi, la polizia stradale prosegue nelle indagini per ricostruire l'episodio, si presume che a provocare la terribile carambola sia stata la stessa vittima. Ancora appeso ad un filo i comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi si attendono alla proroga per continuare a conferire rifiuti nella discarica di Trapani e entro oggi il via libera dal dipartimento si scaricherà sino al 28 dicembre. Arrivano i contributi agli indigenti ad Alcamo, l'amministrazione comunale raschia il bilancio e trova le risorse, saccheggiato il fondo di riserva del sindaco dopo la bocciatura degli assestamenti di bilancio. Da domani a Partinico partono i cantieri lavoro, 10 progetti finanziati dalla regione per un investimento di 300 mila euro, previsti interventi di manutenzione del verde coinvolti un centinaio di disoccupati. Le cosiduci tra i prodotti alimentari tradizionali del Ministero delle Politiche Agricole entrano nel prestigioso paniere e anche i dolci tipici di Castellammare del Golfo in vetrina ai caratteristici fichi natalizi. E ritrovati a questa nuova edizione dell'informazione di Alpa 1, sono 32 mila i lavoratori sodati in provincia di Trapani, di cui 5 mila fra il capoluogo e i comuni dell'Interland. Quanto emerge dai dati raccolti da alcune organizzazioni sindacali e patronati come l'Inca della CGL. Secondo l'indagine, almeno il 70% dei lavoratori sodati sarà costretto ad attendere faticosamente la data in cui avrà maturato l'età pensionabile o comunque sarà in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Fino ad allora non avrà né lo stipendio né la pensione. In molti casi si tratta di un'attesa di parecchi mesi. Questo perché avevano sottoscritto accordi per un'uscita dall'azienda con l'accompagnamento alla pensione. Soltanto il 30% degli interessati è stato invece costretto ad arrangiarsi, o almeno peggio, o ha trovato qualche altra attività lavorativa, magari mettendosi in proprio. In ogni caso, i lavoratori interessati, fa osservare il direttore del patronato Inca, Liria Canzoneri, hanno tempo sino al 5 gennaio del prossimo anno per poter presentare domanda di accesso ad alcuni benefici previsti da un'apposita legge di salvaguardia. Una legge che consente il diritto al pensionamento per diversi soggetti esodati. Parliamo adesso dell'incidente mortale sulla bretella di Castellammare del Golfo che è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio. Sono fuori pericolo i due feriti. I medici hanno sciolto la prognosi. La polizia stradale prosegue nelle indagini per ricostruire l'episodio. Si presume che a provocare la terribile carambola sia stata la stessa vittima. Sono fuori pericolo i due feriti gravi rimasti coinvolti ieri sera. Un incidente stradale avvenuto sulla statale 731 nella bretella di Castellammare del Golfo. All'altezza delle località scampati dove ha perso la vita un uomo. I medici dell'ospedale di Alcamo dove sono ricoverati i feriti, un uomo e una donna di cui non sono state rese note le generalità, hanno sciolto la prognosi e sono stati dichiarati fuori pericolo. Fortunatamente quindi non si aggrava il già pesante bilancio di questo incidente per cui ha perso la vita Giuseppe Cusumano, 83 anni di Carini. Questa mattina la polizia stradale di Trapani, che ha effettuato i rilievi con il supporto dei colleghi del distaccamento di Alcamo, ha proseguito nella ricostruzione della dinamica dei fatti che sono ancora in via di accertamento. L'impatto si è verificato originariamente tra due veicoli che si sono toccati sulla fiancata e che a loro volta nella carambola ne hanno coinvolto altri due. Uno scontro violentissimo che ha causato per l'appunto la morte dell'83enne e i due feriti. Cusumano è stato trasportato prima all'ospedale di Alcamo e poi a Palermo, ma durante il tragitto ha perso la vita. A causare l'incidente è stata la stessa vittima. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'anziano, che stava guidando una Ford Transit in direzione dell'uscita autostradale, ha perso il controllo dell'auto, impattando prima con una Mercedes e successivamente con un'altra automobile e un furgone. Proprio gli occupanti di quest'ultimo veicolo, un uomo e una donna, sono stati trasportati all'ospedale alcamese con gravi ferite in tutto il corpo. Si ipotizza che Giuseppe Cusumano abbia perso il controllo del mezzo a causa di un malore, andandosi a schiantare a velocità sostenuta contro le altre auto che lo procedevano. L'asfalto, reso viscido dalla pioggia, ha poi contribuito a rendere ancora più fragoroso l'impatto, facendo prendere velocità all'auto portata dall'anziano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, di Alcamo, gli operatori dell'ANAS, che hanno chiuso il tratto di strada interessato per facilitare le operazioni di soccorso, i sanitari del 118 e la Polizia Municipale di Castellammare del Golfo e la Polstrada per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. Ancora questa mattina sul luogo dell'incidente erano chiari i segnali del terribile impatto. Il guardrail danneggiato e i resti delle auto, cerchioni, pezzi di carrozzeria, delle ruote, fanno da contorno all'ennesimo incidente che si verifica nella zona del Golfo di Castellammare. Nella vicina Alcamo si contano quest'anno già quattro vittime della strada. L'ultima Maria Fiorito Accardi, 49 anni, rimasta vittima di una terribile carambola nel novembre scorso che l'ha sballottata tra muro di cemento armato e un albero secolare proprio allo svincolo autostradale di Alcamo Est. Hanno poi perso la vita una ragazza di 25 anni, Emanuela Pecoraro, anch'essa alcamese, sulla strada provinciale 47 all'altezza di Contra Gammara. Un'altra giovane, la balestratese Giuliana Ballerino, appena ventenne, rimasta vittima sulla statale 187 ad Alcamo Marina ed infine in autostrada vicino allo svincolo per Alcamo Est, a morire è stato Rosario Frisina, 66 anni, di Borgetto. Venerdì prossimo, 12 dicembre, potrebbero verificarsi disagi relativamente al servizio di informazione al pubblico presso la sede provinciale dell'Inpsi di Trapani, ma anche nelle agenzie territoriali di Marsala, Castelvetrano, Alcamo e Mazzara del Vallo a causa dello sciopero generale proclamato da CGL e UIL. Gli uomini e le donne del Partito Democratico di Alcamo, che già da tempo hanno iniziato una nuova fase di rinnovamento, si chiedono la motivazione per cui il Movimento ABC strumentalizzi le presunte incongruenze e ambiguità del PD a livello nazionale, accostandole all'attività del Partito Locale. Quanto si legge in un comunicato del Partito Democratico di Alcamo, in risposta alle polemiche che sono state innescate nei giorni scorsi dal Movimento ABC. L'accostamento mediaticamente populista di una vicenda nazionale, peraltro, continua ancora il PD alcamese, non ancora conclusesi nelle sedi opportune della giustizia e tutta da definire, risulta inappropriato e strumentale, porta a chiedere quali siano le logiche spartitorie di cui parla il Movimento ABC e a quali atteggiamenti assunti negli scorsi giorni in Consiglio Comunale si stia facendo riferimento. Il bene comune e gli interessi dei cittadini, prosegue la nota, sono le priorità del PD e non sono esclusiva di chi si fregge di tale definizione all'interno di un simbolo. La politica onesta è un valore che il Partito porta avanti con spirito di condivisione, alla luce anche di una rinnovata unitarietà interna e, pertanto, le accuse vengono rispedite al mittente, conclude il comunicato del Partito Democratico. Ancora appesi ad un filo i comuni di Alcamo, Castellammara del Golfo e Calatafimi, si attende alla proroga per continuare a conferire i rifiuti nella discarica di Trapani. Entro oggi il via libera dal Dipartimento si scaricherà sino al prossimo 28 dicembre. Il servizio è attesa per oggi la proroga da parte della Regione per i comuni di Alcamo, Calatafimi, Castellammara del Golfo e per molti altri enti locali della provincia trapanese, che autorizza il proseguo del conferimento dei rifiuti nella discarica di Trapani. Ieri sera i sindaci hanno incontrato personalmente alcuni dirigenti del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti che hanno assicurato che entro oggi arriverà l'autorizzazione. Siamo ancora in attesa di avere il via libera, sottolinea il sindaco di Castellammara del Golfo, Nicola Coppola, per continuare a scaricare sino al prossimo 28 dicembre. Un lasso di tempo ragionevole che potrebbe anche bastare per far tornare a conferire i comuni del lato Trapani 1 nella discarica di Siculiana, nell'Agrigentino, dove in fase di realizzazione una nuova vasca di raccolta dell'indifferenziato. Il problema è però che sino a tutto l'arco della mattinata l'autorizzazione non è stata ancora emessa dal Dipartimento. Una situazione di incertezza che creano un pochi disagi ai territori e che ha già scatenato le reazioni del primo cittadino di Alcamo, Sebastiano Bonventre, il quale ha accusato la Regione di incompetenze di pressa pochismo rispetto alla problematica dei rifiuti. Con lo spettro di un'emergenza alle porte, il deputato regionale l'alcamese Valentina Palmeri ha scritto al Presidente della Regione il neoassessore all'energia e rifiuti affinché venga prorogato il termine per il conferimento dei rifiuti nella discarica di Borrani a Trapani, un provvedimento che venga emanato, sostiene la parlamentare, nell'emora del completamento dei lavori nella discarica di Siculiana e di mettere in atto tutte le migliori situazioni per scongiurare il rischio di vedere per le strade del Trapanese cumuli di rifiuti. Al di là dell'autorizzazione che dovrebbe arrivare senza grossi problemi, resta di fondo un problema invece gestionale per quanto concerne il servizio di smaltimento dei rifiuti nella provincia trapanese. Si tratta più che altro di questioni infrastrutturali in un territorio che per quanto concerne questo delicato settore non offre garanzie e soprattutto programmi nel medio e nel lungo termine. Questione sollevata proprio dal senatore del Movimento 5 Stelle Vincenzo Sant'Angelo. L'impiantistica pubblica in provincia di Trapani, sottolinea, è completamente bloccata, sebbene i progetti per la costruzione degli impianti come quello di compostaggio di Clatafimi si gesta sia pronto per essere costruito. In realtà manca la materia prima, cioè vale a dire i finanziamenti. Questa situazione, sottolinea il parlamentare, crea evidente vantaggio ai privati che applicano tariffe libere in regime di sostanziale monopolio ma soprattutto della percentuale di rifiuti indifferenziati che continua ad essere altissima nonostante questo territorio faccia la raccolta porta a porta con un servizio gestito dai meri ambienti in seguito a contratti milionari con i singoli comuni. Sant'Angelo ha fatto una richiesta di accesso agli atti all'osservatorio regionale dei rifiuti così come ai sindaci dei comuni di Marsala, Alcamo, Castellambara del Golfo, Pantellerie e Trapani per conoscere non solo le percentuali dei rifiuti raccolti ma soprattutto i costi e gli introiti che derivano dal materiale differenziato. La giunta guidata dal sindaco di Alcamo Sebastiano Bonventri ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale del Rodari per un importo complessivo di 235 mila euro l'opera è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 2014-2016 l'opera nel suo complesso è il risultato di un lavoro che è stato svolto tra gli assessorati ai lavori pubblici, patrimonio e servizi sociali mentre il responsabile unico del procedimento è l'ingegnere Anna Parrino la realizzazione del progetto è stata possibile grazie al finanziamento del Ministero dell'Interno tramite fondi PAC il progetto rientra in un'ottica di risparmio della spesa ha affermato l'assessore Enzo Coppola poiché con la realizzazione di questo stesso progetto il comune avrà un ritorno economico in considerazione del fatto che non pagherà più l'affitto attuale infatti oggi il Rodari ospita 60 bambini in una struttura di proprietà non comunale poiché l'asilo sarà ubicato nei locali di proprietà del comune che sono vicini la palestra di Contrada Tressanti prorogati i contratti di lavoro per 184 lavoratori precari del Libero Consorzio Comunale di Trapani il provvedimento è stato già firmato dal neocommissario straordinario Ignazio Tozzo ed è immediatamente esecutivo con l'adozione di questo mio primo atto deliberativo spiega il neocommissario ho voluto riconoscere la priorità e l'attenzione che meritano questi lavoratori che continuano a versare in una oggettiva situazione di disagio e di incertezza a causa del finora mancato concretizzarsi delle procedure di stabilizzazione in attesa che l'Assemblea regionale siciliana dia i necessari contenuti all'attività dei liberi consorsi comunali era importante inviare un segnale a questi dipendenti continua ancora la nota di Tozzo le cui famiglie subiscono in maniera più pesante le conseguenze dell'attuale stato di generale crisi economico-finanziaria arrivano i contributi agli indigenti ad Alcamo l'amministrazione comunale raschia il bilancio e trova le risorse è stato letteralmente saccheggiato il fondo di riserva del sindaco dopo la bocciatura degli assestamenti di bilancio vediamo il servizio i contributi ai bisognosi saranno comunque garantiti ad Alcamo nonostante non sia passato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale l'assestamento di bilancio per rimpinguare il capitolo la garanzia arriva dall'assessore al bilancio Antonino Manno il quale precisa che in qualche modo si stanno recuperando le somme raschiando il fondo del barile l'amministrazione comunale, precisa Manno erogherà i contributi per le persone in difficoltà nonostante i mancati assestamenti di bilancio si sta provvedendo a recuperare tutte le risorse finanziarie possibili anche mediante ricorso al fondo di riserva l'obiettivo è quello di dare comunque un aiuto alle famiglie in condizioni di difficoltà economica e sociale per garantire le festività natalizie più serene conclude l'assessore ovviamente non si potranno garantire le risorse originariamente previste anche perché il ricorso al fondo di riserva del primo cittadino non è talmente ricco da poter riempire le falle del mancato assestamento di bilancio si può riparare in maniera tecnica utilizzando fondi di riserva in parte è chiaro insomma ci metteremo una pezza che non è la stessa cosa di aver fatto gli assestamenti di bilancio che ormai sono per tutti non si possono più fare quindi lavoriamo sul vecchio bilancio quanto accaduto in consiglio comunale ha già creato un vero e proprio terramoto politico nelle stanze dei bottoni del municipio la mancata presenza dalla maggioranza ed in particolare di alcuni consiglieri del gruppo di area democratica ha indotto una polemica a distanza che ha finito per creare una rottura non a caso area democratica ha annunciato di avere preso le distanze dalla maggioranza in attesa comunque di quanto delibererà l'assemblea dello stesso movimento civico il prossimo 18 dicembre ora il sindaco dovrà necessariamente andare a cercare altre alleanze a conti fatti dovrebbero essere oggi 14 consiglieri e suo sostegno almeno come cartello ufficiale non contando i battitori liberi in aula area democratica in realtà da tempo esterno ha un forte disappunto rispetto all'attività dell'azione politico amministrativa del governo cittadino tanto che nell'ultimo rimpasto del febbraio scorso ha ritirato il suo assessore di riferimento Gino Paglino sostenendo l'amministrazione dall'esterno ad essere finita nel calderone delle polemiche non solo area democratica ma anche l'opposizione ha ditata di non avere tenuto in conto l'importanza della manovra di assestamento che prevedeva contributi per le famiglie indigenti e stanziamenti per completare la cucina del plessio Europa e che sarebbe servita a internalizzare il servizio della mensa le contestazioni dei consiglieri sono state quelle che la manovra era priva di relazione politica oltre che zeppa di errori solo un pretesto questo per il governo alcanese che ha parlato di errori tecnici che non inficiavano comunque la manovra e ritorniamo a parlare di politica otto punti programmatici per rilanciare la città di Trapani il partito democratico ci riprova dopo le festività natalizie avanzerà il sindaco Vito Damiano una serie di proposte per migliorare i servizi e rendere la città più vivibile ad annunciarlo è il segretario comunale dei democratici Francesco Brillante metteremo tutto nero su bianco come abbiamo già fatto lo scorso anno afferma Brillante dopo le festività natalizie avanzeremo una serie di proposte all'amministrazione per migliorare la città Brillante conferma però il suo giudizio negativo sull'amministrazione si dichiara pronto a riaprire la questione legata alla mozione di sfiducia la nostra mozione a differenza di quella dell'ex sindaco Mimmo Fazio che non è mai arrivata presso gli uffici comunali è depositata agli atti della presidenza del consiglio sottolinea il leader del PD trapanese chiunque la volesse sottoscrivere ricordo ai consiglieri può farlo in qualsiasi momento però se ridubbi che chi si è messo a disposizione per votare il bilancio sia nelle condizioni domani di votare un'eventuale mozione di sfiducia anzi mi sembra che Forza Italia compreso il tanto contestatario Francesco Salone abbiano fatto da stampella a questa amministrazione e parliamo adesso di cronaca aggredisce e minaccia la moglie in manetta uno stalker a Marsala perseguita la coniuge e la molesta e la ingiuria vittime anche il figlio e la suocere i carabinieri mettono però fine all'incubo vediamo i particolari i carabinieri della stazione di Petrosino diretti dal luogo tenente Morizio Giaramita hanno tratto un arresto per i reati di atti persecutori violazione di domicilio, molestie ed ingiuria piccione Alessandro, 51enne pregiudicato di origine siracusane ma residente a Marsala i reati sono stati commessi in danno dell'ex moglie, del figlio e della suocera il tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di alcuni giorni fa quando è stato richiesto l'intervento dei militari dell'arma poiché il piccione si era introdotto in casa dell'ex coniuge dove l'aveva aggredita, minacciata e ingiuriata alla presenza del figlio e della madre per poi dileguarsi dal racconto dell'ex moglie di piccione e dei familiari è emerso che l'ex marito aveva più volte minacciato la donna arrecando anche danni agli oggetti di casa infatti nell'abitazione vi erano vari vasi rotti i carabinieri hanno così deciso di pattugliare la zona in modo da poter immediatamente intervenire in caso di ritorno del piccione infatti appena un'ora dopo piccione si era presentato nuovamente innanzi la casa tentando di entrare sferrando calci e pugni sia alla porta di ingresso che alle tapparelle della finestra arrivando sul posto militare hanno trovato l'uomo sul retro dell'abitazione che prendeva a calci una porta di alluminio colto sul fatto l'uomo è stato fermato ed accompagnato in caserma per tutti gli accertamenti del caso dalle indagini militari dell'arma di Petrosino hanno accertato che piccione negli anni passati era già stato querelato più volte dalla moglie per maltrattamenti in famiglia nonché condannato dal tribunale di Marsala alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per lo stesso reato partendo da tali presupposti e ricostruendo nel dettaglio la condotta tenuta nelle ore precedenti il 51enne è stato tratto in arresto e condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al tribunale di Marsala l'autorità giudiziaria marsalese vagliato in tutti gli elementi ha avallato l'operato dei militari dell'arma ed anzi considerando la condotta persecutoria tenuta ha confermato la misura restrittiva dagli arresti domiciliari i lavoratori OTD della Fai Cisle dell'ESA del centro meccanizzazione agricola di Trapani sono riuniti in assemblea permanente già a partire da ieri per rappresentare lo stato di disagio per la sospensione dal lavoro nonostante gli ulteriori impegni presi dal governo regionale che il 5 dicembre scorso assicurava l'apertura dei cantieri per l'avvio dei progetti PAC per altri 15 giorni lavorativi ma c'è anche un problema di mancata retribuzione delle ultime tre mensilità quelle di settembre, ottobre e novembre i lavoratori del centro di meccanizzazione di Trapani comunica che non scioglieranno l'assemblea se non riceveranno notizie esaustive da parte degli enti preposti questo quanto per l'appunto sottolineato dai lavoratori della Fai Cisle ma anche dal rappresentante sindacale Vincenzo Pizzolato l'amministrazione comunale di Alcamo ha deliberato di affidare la seconda edizione premio parità di genere al circolo di cultura cinematografica segni nuovi di Alcamo all'interno del concorso internazionale per cortometraggi cortiamo 2014 il premio parità di genere è stato istituito l'anno scorso con l'obiettivo di promuovere il rispetto della persona umana qualunque sia il genere a cui appartenga contrastare ogni forma di violenza contro le donne e sostenere le pari opportunità e l'uguaglianza di trattamento tra uomini e donne l'appuntamento è per sabato pomeriggio alle 19 presso la sala della comunità Giovanni Paolo II nel corso 6 aprile con la proiezione di alcuni corti a tema da domani a Partinico partono i cantieri lavoro dieci progetti finanziati dalla regione per un investimento di 300 mila euro previsti interventi di manutenzione del verde coinvolti un centinaio di disoccupati partono finalmente i cantieri lavoro a Partinico questa mattina al comune l'amministrazione comunale si è confrontata con i diversi dipendenti del comune che sono stati nominati responsabili per la realizzazione di ogni singolo progetto è stata l'occasione per completare il procedimento sul piano burocratico afferma l'assessore ai servizi sociali Gianlivio Provenzano e mettere a punto quindi gli ultimi accorgimenti sul piano tecnico burocratico si dovrebbe partire già da domani a Partinico è prevista la partenza di dieci progetti per un investimento complessivo pari a poco più di 300 mila euro praticamente tutti i lavori che saranno realizzati vertono esclusivamente su piccoli interventi di manutenzione e decoro del verde pubblico come d'altronde nello spirito di questi lavori pubblici finanziati a scopo sociale dalla regione ad essere stati approvati sono la bonifica delle aree degradate interne al perimetro urbano pulizia straordinaria e decoro delle periferie della città la manutenzione al cimitero nei locali interni all'esterno la sistemazione del verde di pertinenza delle scuole delle ville Margherita e Borsellino e di Contrada Pollastra la pulizia di aria interna ed esterna della casa di riposo del centro di urno per anziani del mercato ortofrutticolo ed infine la custodia e cura del verde dello stadio comunale Giuseppe La Franca l'amministrazione ha voluto concentrarsi su questo versante per ovviare alle enormi carenze che si registrano all'interno della pianta organica delle squadre di operai addetti al verde del comune di Pertinico il che significa che ogni operaio mediamente dovrebbe mettersi sulle spalle 15.000 metri quadrati di manutenzione del verde in pratica 41 metri quadrati al giorno non considerando sabati, domeniche festive e ferie da queste considerazioni statistiche si capisce che i conti proprio non tornano il paradosso sta nel fatto che il comune di Pertinico conta su una schiera infinita di dipendenti e contrattisti qualcosa come all'incirca 450 unità eppure c'è un'evidente penuria di personale nel settore del verde pubblico molti sarebbero i certificati medici presentati al comune che documenterebbero l'impossibilità dei dipendenti a svolgere questa funzione motivo per cui l'emergenza negli anni si è trasformata in problema cronico ora però potrebbe esserci una svolta il consiglio comunale ha votato un atto di indirizzo presentato dal consigliere Aldo Loiacono che prevede di incentivare il personale che vuole transitare nel verde pubblico i cantieri lavoro partono anche a Valderice per la durata di tre mesi saranno impiegati 51 lavoratori di età compresa tra i 18 e i 65 anni gli ambiti in cui saranno effettuati gli interventi sono quelli dell'idrico integrato delle politiche sociali dell'istruzione del territorio ambiente dello sport turismo e spettacolo sarà effettuata la diserbatura e pulitura delle aree circostanti gli impianti di depurazione e dei serbatoi idrici e i lavoratori andranno tra l'altro a supporto del personale tecnico comunale per l'esecuzione di interventi di manutenzione della rete idrica nel settore delle politiche sociali e dell'istruzione sarà garantito un servizio di assistenza e accompagnamento degli alunni che fruiscono dello scuolabus il progetto del servizio territorio ambiente prevede la diserbatura pulitura bonifica e manutenzione ordinarie del verde pubblico nel territorio comunale la bonifica e la manutenzione ordinaria del verde pubblico nel territorio comunale e ancora altre manutenzioni ordinarie in vari punti del paese le cose duci tra i prodotti alimentari tradizionali del ministero delle politiche agricole entrano nel prestigioso paniere anche i dolci tipici di Castellammare del Golfo in vetrina i caratteristici fichi natalizi vediamo il dolce denominato cose duci o cose di fico dell'agro ricino compreso il comune di Castellammare del Golfo è entrato a far parte dei prodotti alimentari tradizionali si tratta di dolci natalizi prodotti un tempo esclusivamente in famiglia dalle donne che abilmente intarsiavano la pasta ripiena di fichi creando un dolce artisticamente cesellato e dal gusto articolato che spazia dai sapori dei fichi a quelli degli agrumi un dolce che rappresenta la cultura e tradizione castellamaresi tutt'oggi realizzato per questo l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicolò Coppola rende noto che i dolci ripieni di fichi con la denominazione cosi di fico cosi duci sono stati adesso inseriti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della sezione dedicata alla regione siciliana al numero 128 della tipologia paste fresche prodotte della panetteria della biscotteria della pasticceria e della confetteria l'amministrazione spiega il vice sindaco gaspere canzoneri su iniziativa di alcuni privati ha seguito l'iter di certificazione del procedimento tipico di preparazione delle cosi duci poi trasmesso al departimento di tutela dei prodotti tipici dell'assessorato regionale all'agricoltura perché fossero inserite nell'elenco dei prodotti agroalimentari del ministero delle politiche agricole un dolce che intendiamo valorizzare infatti già da questo Natale abbiamo inserito in programma numerosi momenti di promozione come evidenziato nella relazione di accompagnamento a cura del sociologo Nicolò Quaiata la tradizionale lavorazione del dolce è di origine contadina legata alla produzione familiare a cura delle donne che raccoglievano ed essiccavano al sole i fichi preparavano il vino cotto e i canditi ottenuti dagli agrumi poi realizzavano il dolce durante il periodo natalizio una realizzazione laboriosa intorno al tavolo di lavoro si riunivano più donne della famiglia e del vicinato e a turno completavano la lavorazione dei dolci per ciascuna famiglia un momento di socializzazione e di festa oggi i tempi e modalità sono diverse ma le cose duci rimangono la tradizione dei molte famiglie castellemmaresi nella richiesta di inserimento tra i dolci tradizionali sono stati forniti i dettagli e gli ingredienti della ricetta tradizionale e tipica farina, strutto fichi macinati vino cotto scorze di agrumi essiccati al sole o al forno e macinati l'impasto di farina lavorato nella maddia esteso col mattarello veniva ridotto allo spessore di 2-3 mm oggi viene utilizzata la sfogliatrice le forme realizzate attraverso l'intaglio del rotolo di pasta e fichi riproducono palme fiori, campane uccelli, frutti cesti come nella porcellana con l'ispirazione estemporanea secondo l'estro del momento stesso in cui la lavorazione si realizza l'inserimento nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani del prodotto tipico dell'agro ricino compreso il comune di Castellammare del Golfo con la denominazione dialettale cosi di fico cosi d'ugi come evidenziato da Nicolò Quaiata nasce da una decisione precisa dei richiedenti di rispettare le denominazioni storiche dei due diversi ambiti territoriali afferma il vice sindaco Gasper Canzoneri dove è presente questa tradizione dolciaria quelli dell'agro ricino vengono identificati come cosi di fico quelli castellammaresi come cosi d'ugi Castellammare si colloca fuori dell'ambito dell'agro ricino per ragioni storiche e geografiche per questo si sono volute mantenere entrambi le denominazioni non alterando le due tradizioni storiche e popolari in occasione della festa di Santa Lucia per sabato 13 dicembre prossimo per l'intera giornata rimarrà aperta la chiesa di San Calcedonio detta anche del Purgatorio a Mazzara del Vallo che è solitamente chiusa durante tutto l'anno 5 saranno le messe celebrate alle 9 che sarà preseduta tra l'altro dal Vesco alle 10 alle 11 alle 16.30 alle 18.30 quest'ultima sarà preseduta dal Vicario Generale Don Vincenzo Greco la chiesa a tre anni e dietro è stata restaurata nella facciata esterna e negli stucchi interni si aprirà con la lettera di saluto del Presidente Nazionale FIGC Carlo Tavecchio il Gran Galà di presentazione del 28esimo Trofeo Costa Gaia il settimo Conad Cup torneo internazionale di calcio giovanile organizzato dalla Delcam su 15 rettangoli di gioco del Trapanese e del Palermitano il sipario sulla nuova edizione della Kermessa si alzerà mercoledì 17 dicembre alle 18.30 al Centro Congressi Marconi di Alcamo E questa era l'ultima notizia l'informazione di Alpa 1 si chiude qui come sempre grazie per l'ascolto adesso vi ricordo che va in onda la rubrica click del professore Vincenzo Lucchese subito dopo la sigla di chiusura del nostro notiziario a risentirci Buongiorno a tutti oggi vi leggerò la determina dirigenza della 2210 del 10 di novembre del 2014 liquidazione fattura alla Sicilacqua dunque S.P.A. di Palermo di Salatore di Trapani dal 2714 al 2 1014 quindi dal 2 di luglio del 2014 al 2 di ottobre del 2014 l'importo di questa fattura è di 54.888 euro poi parliamo invece della determina dirigenza della 2208 del 10 di novembre del 2014 legge 328 del 2000 piano zona distretto sanitario 55 Alcamo Castellammare Calatafim il progetto cometa fattura 168 di 49.483 euro ho visto perché servono questi 49.483 euro un coordinatore 18,74 euro per 64 ore e 3 tutor 16,30 euro per 288 euro quindi fatevi voi il conto e questo è quanto poi abbiamo una diciamo che cosa determina dirigenziale la 2189 del 6 di novembre del 2014 legge 328 del 2000 diciamo piano zona 2010 2012 distretto 55 progetto una rete per la vita la fenice l'importo è di 22.330 euro poi abbiamo un'altra determina di che cosa abbiamo un'altra determina la 2184 del 6 di novembre del 2014 liquidazione somma contributo a Gisci Alcamo 4 1000 euro Giovanni Cabellone via Monte Bonifato il legale rappresentante poi abbiamo una delibera la delibera 2183 del 6 novembre 2014 liquidazione fattura all'arca società cooperativa via Salerno l'importo è di 7246 euro e poi abbiamo invece una determina dirigenziale la 2185 del 6 di novembre 2014 liquidazione fattura all'ambulatorio veterinario Viola Bernardo Sembedicane si tratta l'importo di 11.851 e poi abbiamo invece per il mese di settembre ve l'ho detto Mister Dog cioè i cani che abbiamo a Crotone l'importo è 18.123 euro poi abbiamo invece una diciamo liquidazione fattura alla ditta alla ditta adesso qui lo leggo bene ma è di 995 euro e poi poi abbiamo una determina 2.198 del 7 di novembre 2014 e l'importo di 4.453 si tratta di un piano di introduzione dei rischi geologici il geologo Antonino Cacioppo poi abbiamo la missione ad asti ve l'ho detto di Papa e poi abbiamo ancora che cosa la missione a San Cipriano del Vice Sindaco ve l'ho detto poi abbiamo 2.295 determina del 2.11 del 2014 il gettone di presenza per i consiglieri comunali l'importo è 23.983 per 20 sedute e niente che vi devo dire per adesso i miei tre minuti sono trascorsi vi ringrazio e ci risenteremo la prossima volta per i consiglieri Grazie a tutti